Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come siete sciocchini proprio. Adesso io qua una micro quantità lo sto raccogliendo. Guarda. Eh, guarda. Ah, vedi che... Può essere suff? Può essere suff? Sì, siccome sì. E' vero anche secondo me. No, no, lo teniamo qua dentro. Questa stilica andava per me. Eh, io non sono piro, piro, ma tutto deve anerirlo. Sì, una sottile strada di... Non voglio, con il substrato. Ah, vuol fare un po' da infermiere. Ok. Vado un po' dentro. Diciamo che sei anerito. Poi, occhio, eh. Chi è che versa poco? Perché dopo si espande. Su qui c'è un po' d'aria, eh. Cioè, se funziona anche l'invirtiglio, siamo forse. Occhio, ti intirolo su. Occhio, occhio, occhio. Grazie. Che olore, senti? Fuma. Senti che buono profondità. Il vetro è caldo. Occhio, però, se non è sborda. Vado, puoi pulire, si può pulire. Ah, lascia pure così adesso che magari si espalda da sola. Poi, abbiamo fatto una cosa buona. Mettilo sopra la carta. Mettilo sopra la carta. È quella. Il vetro non conduce. È quella. Quella. Che teme? C'è un po' dentro. Occhio, eh. Non avvicinarti. Fragni i due clip, le due mollette. Dovrebbe succedere adesso. No, io lo farò perché sta mangiando veramente. Ma è qui. Ho visto. Tanto l'abbiamo messo noi, quello che ci interessava. La scuola me ne paga un altro, è vero? Dopo i prossimi. Bello come questo? Quindi mettiamo un altro po' di carbon? Sì. C'è anche la stessa. L'abbiamo pulita. C'è una, due voce di soluzione elettronitica. Sì. Se l'avete voi già pronta? Sì. Guarda, poco prima. Aspetta. Non darmi fuoco? Cos'è? Che audio? Sì. Sì, esatto. Aspetta, un attimo, eh. Sui bordi di collegamento, sui bordi di voce. Aspetta, cosa è la grande? Sì. Sì. Dai, uffi. Ma io perché non si poteva? Sì. Due. Due. Poi dove vanno messi i collegamenti con... Ah, dove ho? Vai, prova, metterlo sopra, sparò. Prova, prova. Se guardavo le ragazze che mi fanno intorno. Basta ragazze, guardate qua un attimo. Sì. Qui. Arrivo. Giriamo. Sì. La metoda spalzata. No, questa è che è qui spalzata. Cos'è? Cosa vuol dire? C'è questa? Di mani fuori. Statico qui. Ma non è che è un attimo. Così? Ecco, così. e anche il di là no, 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 solo così così, ok oh ok ok vai via, vai via guarda ti pagate a scuola orca, cagnolino bau bau vai vai basta si infatti con un fioc oppure con acetune ce l'hai? si poi puliamo allora i bordi esterni dopo facciamo il video ok poi a questo punto è possibile sigillare la cella con il silicone vai 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 duri sapori ma naturalmente la vita famosa che è che perché non 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 io sto scolato non è positivo non come fa a mettere così però? Sì, infatti. Vai, è vero. Avanti. 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 Poi puliamo i bombi esterni. Ma questo qui va all'SCR. Sì, infatti.